Salve a tutti, ci troviamo con Luigi Carbone a parlare nuovamente di qualcosa che riguarda Casarano. Luigi, di che cosa ci parli oggi? Voglio parlare del bagno pubblico, perché la gente, gli anziani, per scattare la furina, perché i bagni sono chiudi alle 6, però mi dispiace per la comune, così mentre faccio il bagno per gli anziani, questo io lo dico soltanto. Perché non siamo noi, giovani, anche gli anziani, perché è brutto per fare questa cosa per la comune, che pensano per gli anziani, perché i bagni sono chiuditi, alle 6 chiudono, perché nel paese chiudono il ritardo alle 2, alle 2 e mezza, a Casarano alle 6 chiudono i bagni, perché è menoglie di queste cose. Alle 2 di notte chiudono i bagni, ma a Casarano alle 6 chiudono i bagni, alle 6, alle 7 chiudono i bagni, a dietro dove vanno e fanno urinato. Io sono contento che vanno alla sua comune e fanno urinato. Infatti questo è un problema molto importante. Gli anziani infatti molto spesso, che si trovano in piazza, vanno in vicoterra a fare i loro bisogni che non riescono a... Non ci riuscite le persone anziane, siamo noi giovani, non ci riuscitevamo, ma anche gli anziani, come non riescevano a arrivare a casa, come fanno? Lì fanno pensare alla comune, alla consiglia comunale, per mettere i bagni a metterla in piazza, perché c'erano bidoni grandi per fare i bagni. I bagni chimici, diciamo? Eh, i bagni chimici, per fare lo stozzo, la sua villa comunale, oltre a scuola, può mentire di quelli. Ma vuole lasciare aperti, come dici tu, quelli che già ci stanno, no? Lasciarli aperti praticamente tutta la giornata. Tutta la giornata. Oppure magari che venissero chiusi in un orario più tardo, no? Ad esempio, per esempio... Unici, unici in mezzo. Questo è l'appello che Luigi Carbone lancia questa settimana ai nostri amministratori. Bagni pubblici, aperti, bagni aperti per tutti.